Il 28 novembre del 2013, quando i carabinieri della Compagnia di Giarre danno esecuzione a ben 10 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Catania Oscar Biondi per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi da sparo e reati contro il patrimonio. L'operazione, denominata Idria, prende il nome dalla piazza della frazione mascalese dinunziata, da dove, secondo la procura di Catania, Vincenzo Musumeci, Walid Lahabadi e Riccardo Calabretta, i principali indagati coordinavano le attività dei pusher e organizzavano gli acquisti di droga, per lo più marijuana. Nel corso dell'indagine, avviata nel dicembre del 2011 e conclusasi nell'estate del 2012, i carabinieri documentano almeno quattro viaggi da maschali a Catania, compiuti da Musumeci e Calabretta per rifornirsi di droga, circa un chilo per ogni viaggio, acquistata principalmente a San Giovanni Galermo. Ieri la durissima sentenza del GIP di Catania Giovanni Cariolo, ritenuta eccessiva dai difensori degli imputati. Le sentenze vanno tutte rispettate, commentano a caldo i legali Ernesto Pino e Giovanni Spada, difensori di fiducia di Vincenzo Musumeci e Riccardo Calabretta, anche se non condivise. Questa in particolare proseguono e meno condivisibile e condivisa di altre. Pur tuttavia attendiamo le motivazioni per proporre l'impugnazione. Resta comunque, concludono Pino e Spada, una valutazione di eccessività della pena, con riferimento al materiale probatorio e umano, oggetto del procedimento. Più dura il commento di Marisa Ventura, difensore di Walid Labadi. Al di là della condivisione o meno della tesi della sussistenza dell'associazione, dichiara il legale, il dispositivo non corrisponde, a mio parere, ai fatti, alle circostanze e alle modalità di quelle azioni che avrebbero connotato la predetta consorteria, che peraltro avrebbe operato in un lasso di tempo brevissimo. La forbice di tale, prevista da ogni norma penale, dice ancora Marisa Ventura, è tale proprio da consentire al giudice di combinare la sanzione proporzionata ai fatti. Credo, ha concluso il legale, che in questo caso non sia avvenuto, perché ritengo la pena eccessiva. Preannuncia il ricorso in appello anche Michele Panzera, illegale di Davide Catanzaro, condannato a due anni.